Allora, proseguiamo il nostro studio della complessità parlando di una tecnica sistematica per calcolare la complessità della nostra ricorsione sotto determinate ipotesi che adesso faremo e che anche in un qualche senso diciamo una tecnica risolutiva oggi parliamo di programmazione dinamica. Allora abbiamo visto fino a ieri che i nostri problemi li vogliamo risolvere trovando appunto questa funzione questa ricorsione che dato l'input del problema lo risolve e ieri parlando di come sistema computazionale abbiamo calcolato quanto ci costava calcolare la nostra funzione quella per il piastradamento f di 0 uguale f di 1 uguale a 1 e poi f di n uguale a f di n meno 1 più f di n meno 2 ok e avevamo detto che questa funzione calcolarla f di n ci costa o grande di 2 alla n operazioni questo dove eravamo rimasti ieri e il perché ci ricordiamo perché ogni volta al più raddoppiava il numero di operazioni dobbiamo fare al prossimo livello cioè al prossimo livello di ricorsione e quindi sono nei livelli di ricorsione quindi ci può costare fino a 2 alla n ma ma facciamo delle osservazioni noi abbiamo detto che la nostra f di n per calcolarla dobbiamo calcolare i valori di f di n meno 1 e f di n meno 2 perfetto facciamo un altro livello f di n meno 1 per calcolare avremo bisogno di f di n meno 2 e f di n meno 3 e dall'altra parte per calcolare f di n meno 2 di cosa avremo bisogno f di n meno 3 e f di n meno 4 già qui possiamo notare una cosa ovvero cosa possiamo notare possiamo notare che questa invocazione qua f di n meno 2 e questa invocazione qua anche se f di n meno 2 e sono la stessa invocazione cioè nel senso stiamo calcolando il valore della funzione f nel valore n meno 2 ma quando calcoliamo qua il valore di f di n meno 2 e quando calcoliamo qua il valore di f di n meno 2 cambia qualcosa cioè potrà cambiare il valore no perché questa funzione fa sempre f di n meno 2 farà la stessa cosa paresemente guardando dal da come l'abbiamo definita e quindi se noi calcoliamo una volta quanto vale f di n meno 2 è inutile che quando poi dobbiamo calcolare quest'altro f di n meno 2 poi rifacciamo i calcoli sappiamo già quanto vale se l'abbiamo già calcolato ovviamente quindi l'idea fondamentale della programmazione dinamica è questa se abbiamo una funzione f che è pura e pura cosa vuol dire? pura vuol dire che non importa in che condizioni la chiamiamo, quante volte la chiamiamo, quando la chiamiamo ok non importa quando computiamo questa funzione o come o perché se questa funzione dato un certo valore di input restituirà sempre per forza lo stesso valore di output come in questo caso, in questo caso è palese vedere che f non importa quante volte chiamiamo f di n per dire o quando la chiamiamo o cosa del genere f di n avrà per sempre lo stesso valore quindi questo qua è la definizione di pura se è una funzione pura, allora possiamo dire la seguente cosa quando calcoliamo il valore di una certa f di n ok la prima volta lo dobbiamo calcolare veramente nella seconda volta in poi ci ricordiamo una volta che abbiamo calcolato il valore di f di n per ogni f di n che abbiamo calcolato e se dobbiamo ricalcolarlo, se ci viene richiesto di nuovo se dobbiamo ricalcolarlo tipo in questo caso invece di ricalcolarlo usiamo il valore che ci avevano già salvati quindi se facciamo questa cosa ok e ripartiamo da f di n ok e vogliamo calcolare questa funzione di piastrellamento però sfruttando i risultati parziali che abbiamo già cosa facciamo? mettiamo che vogliamo calcolare non un f di n generico ma ad esempio f di 5 ok beh f di 5 cosa dobbiamo fare? dobbiamo calcolare f di 4 e f di 3 vabbè f di 4 ce lo dobbiamo calcolare quindi cosa dobbiamo fare? dobbiamo calcolare f di 3 e f di 2 f di 3 ce lo dobbiamo calcolare anche lui che quindi sarà f di 2 e f di 1 f di 2 ce lo dobbiamo calcolare quindi sarà f di 1 e f di 0 f di 1 e f di 0 sono casi base quindi questo sappiamo che vale 1 e questo sappiamo che vale 1 da questo punto f di 2 sappiamo che vale 2 f di 1 è un caso base vale 1 f di 3 quindi varrà 3 ok adesso se stavamo facendo lo stesso approccio di prima cioè questo faccio lo ricalcolavamo dovevamo a sua volta espandere questo f di 2 nella computazione f di 1 per f di 0 ma f di 2 l'abbiamo già calcolato il risultato sappiamo già che è 2 allora invece di calcolarcelo di nuovo sappiamo che il risultato è 2 ok e quindi non dobbiamo rivisitare questo pezzo di computazione a questo punto calcoliamo 5 stesso discorso per f di 3 f di 3 l'abbiamo già calcolato quindi è inutile che ce lo ricalcoliamo sappiamo che vale 3 e quindi f di 5 vale 8 notate che adesso il numero di volte che abbiamo chiamato la funzione è diminuito tantissimo è veramente diminuito tantissimo ma quanto è diminuito? la programmazione dinamica ci dà un modo formale di dire quanta è la complessità di un algoritmo di programmazione dinamica e la complessità di un algoritmo di programmazione dinamica è sempre data dalla complessità di transizione dello stato per il numero di stati cosa intendo con queste due cose? allora la transizione dello stato è praticamente l'operazione che deve fare il passo generale in questo caso il passo generale fa solo una somma c'è solo questo più qua ok? deve fare solo una somma la transizione di stato e quindi come ci eravamo detti ieri il più è un'operazione costante nel modello che abbiamo ora perlomeno il più è un'operazione costante quindi la transizione di stato ci costerà teta grande di uno ma per ora ignoriamo teta grande facciamo una roba più approssimativa diciamo che è semplicemente uno grande di uno questo più ci costa uno grande di uno benissimo quindi il primo fattore della nostra complessità sarà o grande di uno ok secondo fattore è il numero degli stati il numero degli stati è qual è il numero totale di funzioni che vengono chiamate? cioè qual è il numero totale di funzioni che verranno chiamate nella nostra ricorsione? beh possiamo vedere che viene chiamato fdn fdn-1 fdn-2 fdn-3 non ci importa quante volte ci interessa solo quante ne vengono chiamate non è difficile vedere che se noi chiamiamo fdn il numero di volte che f verrà chiamata è n più 1 perché è da 0 a n cioè il numero di diverse istanze di fdn-2 sono n più 1 e n più 1 è un o grande di n ok quindi questa è la complessità della transizione dello stato e questa invece è il numero di stati questo è il numero di stati quindi o grande di 1 però o grande di n si prendono gli argomenti si moltiplichano per si rifalla o grande ci costerà o grande di n quindi applicando la tecnica della programmazione dinamica che è semplicemente quella che in gergo in realtà fondamentalmente si chiama memorizzazione ovvero memorizzare i risultati parziali cioè nel senso memorizzare una volta che calcolo la funzione per un certo valore ricordarci che l'abbiamo calcolato ricordarci il valore in modo che se viene richiamata non dobbiamo ricalcolarlo ok programmazione dinamica e una volta che facciamo ciò la nostra funzione mentre la nostra funzione deve essere pura come ho detto prima ma una volta che facciamo ciò la complessità diventerà quanto ci costa calcolare quanto ci costa calcolare un singolo valore un singolo valore della funzione per il passo generale assumendo che abbiamo già i risultati delle altre ok quindi in questo caso dobbiamo fare solo una somma e ci costa tempo costante per il numero di stati che dobbiamo calcolare cioè il numero di diverse invocazioni della funzione che dobbiamo calcolare che sono avendo detto n più 1 in questo caso quindi un grande di n ed è abbastanza in realtà scontato che venga questo il calcolo per calcolare la complessità perché ogni funzione la chiamiamo al più una volta cioè per ogni parametro verrà chiamata al più una volta la funzione perché la prima volta calcoliamo il valore della seconda volta in poi ce l'abbiamo già per quanto ci costa calcolare il singolo valore che quindi in questo caso è il più o grande di 1 ed è questo ok quindi siamo passati se qualcuno di voi avesse fatto lo specchietto adesso lo potrebbe siamo passati che non riuscivamo in un tempo umano a calcolare questa funzione per n uguale 50 prima non ce la facevamo diventava un calcolo assurdo ci metteva anni probabilmente a invece adesso avere un costo lineare con solo questo piccolo questa piccola osservazione quindi possiamo calcolare tranquillamente anche valori enormi di questa funzione adesso bene questa era questo è il piccolo della programmazione dinamica ora facciamo che proviamo a risolvere il primo problema tra virgolette serio cioè finora erano tutti quanti i problemi giocattolo cerchiamo adesso di applicare tutto quello che abbiamo imparato finora cerchiamo di risolvere un problema leggermente leggermente più serio e quindi trovare una soluzione in primis corretta e poi stimarne la complessità allora il problema è il seguente volete fare un viaggio in macchina ok e avete programmato di visitare N città ok queste i cerchetti sono le città e queste sono le strade che collegano le città ok quindi che ne so questa qua sarà la città come lo faccio 1 based o 0 based ma dai facciamo gli informatici facciamo 0 based quindi questa è la città 0 questa è la città 1 questa è la città 2 la città 3 eccetera ok e di questa città ce ne sono N e le volete visitare esattamente in quest'ordine ok la vostra macchina ha un serbatoio che può contenere fino a L litri di benzina e sapete che per passare da una città all'altra consumerete sempre esattamente un litro di benzina ok e partite col serbatoio pieno all'inizio il serbatoio ha tutti gli L litri di benzina in ogni città c'è una pompa di benzina e sapete che il costo della benzina per litro in quella città è di chiamiamolo a di 0 euro al litro a di 1 euro al litro a di 2 euro al litro eccetera fino a quindi a di n meno 1 euro al litro no non è vero perché l'ultima città non è l'ennesima ma è la ennesima meno 1 perché sono n da 0 a n meno 1 e quindi è a di n meno 1 ok allora ripeto un attimo il problema cioè ripeto quello che ho detto finora quindi volete fare questo viaggio in macchina volete visitare esattamente prima la 0 poi la 1 poi la 2 poi la 3 eccetera ogni volta che fate ogni volta che fate una città o l'altra consumate esattamente un litro di benzina ok partite che avete tutti ed elle i litri di benzina in ogni città sapete che c'è una pompa di benzina tra l'altro c'è una pompa di benzina proprio all'inizio della città quindi potete anche andarci se siete arrivati con 0 litri ok c'è una pompa di benzina che vi dà carburante per a di euro al litro ok volete visitare tutte le città qual è il budget minimo che mi posso dare per visitare tutte le città quanto è il minimo che posso pagare se scelgo ottimamente dove fare benzina cioè in quali posti e quanta benzina fare in quali posti fare benzina e quanta benzina fare ok questo è il problema se non avete capito cosa è il problema ditemelo il serbatoio è infinito no il serbatoio può contenere al massimo l litri di benzina al massimo e si parte con l litri e si parte col serbatoio pieno si voi arrivate qua partite da qua che avete il serbatoio pieno bene aspetto voi cioè troviamo insieme la soluzione a questo problema cioè pensateci se avete idee ditele e ci pensiamo insieme a come risolvere questo problema insomma il prezzo della benzina è in crescita costante in che senso nel senso tra una città e l'altra cresce sempre no dipende da no i prezzi della benzina sono arbitrari cioè il prezzo della benzina al litro qua potrebbe essere che ne so due qua potrebbe essere cinque qua potrebbe essere uno non l'unica cosa che vi dico è che ovviamente il prezzo pardon facciamo così giusto per dare un minimo di assunzioni in più vi dico che il prezzo ad è un intero positivo ok quindi la benzina non costa zero quanto meno e anche la capacità del vostro serbatoio è un intero positivo ok e ovviamente il numero di città è anch'esso un intero positivo cioè assunzioni nel senso ragionevoli però a parte questo nient'altro i prezzi della benzina potrebbero essere arbitrali allora cerchiamo di ragionare posso provare sì tra l'altro per favore identificatevi quando parlate perché sennò non so chi siete Stefano Stefano Carva mi chiami ok dimmi io pensavo di proseguire fino alla città allora sì non ti sentiamo più no scusa ah ok era una falsa soluzione vabbè fa niente no cioè nel senso hai pensato qualcosa però adesso ti torna che non ti viene no mi sono un po' dimenticato però ah ok allora ripensaci cioè il punto era di far benzina alla si fa benzina si trova la città si fa benzina fino alla città che con il costo minore però non lo so allora quello che dice Stefano è intuitivamente dire beh io so quanto sono quanto pago la benzina nelle vere città in qualche modo quello che devo fare è preferire farla nelle città dove mi costa meno allora questa queste idee si chiamano idee greedy greedy scritto g-r-e-e g-r-e-e di y vuol dire tipo ghiotte in italiano ma è una traduzione schifosa cioè sono quelle idee che dicono cerchiamo di fare la scelta migliore ogni volta ok questa è l'idea generale c'è un grosso problema con le idee greedy molto spesso non funzionano cioè molto spesso non trovo la soluzione corretta per ora poi vedremo ci sono dei problemi che bisogna risolverli in greedy per avere una complessità decente ma per ora cerchiamo di rimanere sul modello di quello che c'è sul modello di ragionamento che dicevamo nei giorni scorsi ovvero che quando dobbiamo fare una scelta ok visto che non sappiamo qual è la scelta migliore tipo nel problema del andare a destra andare in basso nelle celle visto che non sappiamo qual è la scelta migliore le facevamo tutte ok perché come facevamo nel come si chiama nel quello della griglia potevamo andare in basso potevamo andare a destra le facevamo entrambe ok in un certo senso vogliamo applicare quello stesso ragionamento anche qua vogliamo in un qualche modo provare tutte le scelte ok ah che per ora invece non sempre funziona no per ora vogliamo per ora vogliamo usare il modello che avevamo usato che abbiamo usato finora cioè se abbiamo più di una scelta da fare non sappiamo qual è la scelta migliore a priori e in un qualche modo vogliamo provarle tutte ok abbiamo più scelte che possiamo fare vogliamo provarle tutte ok mentre le idee gridi sono appunto che ne so la prossima città costa poco allora faccio sicuramente quella e non sempre funzionano invece sicuramente se le proviamo tutte eh beh tra quelle c'è la migliore ok quindi per ora cerchiamo di tenerci a questo modello detto ciò qual è la prima cosa che vogliamo fare quando vogliamo cercare di risolvere un problema in maniera ricorsiva la prima cosa che vogliamo fare abbiamo detto è trovare il caso base cioè un'istanza del problema che è talmente semplice che sappiamo risolverla in modo arbitrario cioè che sappiamo subito dare la risposta c'è una qualche istanza di questo problema quindi una qualche valorizzazione di una di queste variabili o più di una di queste variabili che ci dà un caso che è talmente semplice che lo sappiamo risolvere istantaneamente che sono già la città zero ripeti scusa sono già la città zero cioè io parto dalla città zero beh il problema ti dice che parte dalla città zero parti sempre dalla città zero che c'è una città che c'è solo una città esattamente chi è che l'ha detto Stefano Stefano eh bisogno eh pardon Stefano Carro ok bisogna assolutamente eh uno uno di voi sarà Stefano C e l'altro sarà Stefano S for future communications allora dicevamo Stefano C ci dice che se eh abbiamo solo una città allora il problema è banale perché in tal caso eh quant'è il costo quindi zero zero esattamente se n uguale a uno allora quello che dobbiamo spendere è zero perché siamo già nella città non dobbiamo fare nient'altro perfetto perfetto ora quello che vorremmo fare è capire quindi eh vorremmo trovare una ricorsa il passo generale cioè in qualche modo riuscire a avere un problema generale ok quindi appunto avere n città eh avere tutte queste cose insomma e ricondurci a un problema più semplice ok questa cosa eh adesso probabilmente la farò un po' più guidata io perché non è banalissima da fare eh per problemi che non sono banali eh bisogna un attimo farci l'occhio di cosa serve cosa non serve allora io vi aggiungo un dato ok vi aggiungo ehm un dato che vi dico che la funzione che il caso base la funzione del caso base sarà f di e vi dico a che città siamo arrivati anzi facciamo ehm cosa facciamo facciamo quante città mancano sì direi di sì facciamo quante città mancano quindi se ce n'è solo una vuol dire che ci manca ancora solo una città ok facciamo quante città mancano e vi dico che è molto utile se mettiamo un secondo parametro che è quanti litri abbiamo ancora nel serbatoio ma ehm ok che per ora metto una x la domanda è quali sono i valori possibili dei litri per cui avere solo una città è ancora un caso base che fa zero cioè non so se vi sono spiegato ehm io dico che la nostra funzione che stiamo cercando di risolvere voglio che sia il primo parametro è quante città ci rimangono ancora da visitare quindi nel caso c'è solo una città ovviamente uno e il secondo parametro è quanti litri di benzina abbiamo ancora in serbatoio e ora vi chiedo ehm prima abbiamo detto che se abbiamo solo una città allora ci costa zero questa cosa è vera in generale per qualunque quantità di litri di benzina che abbiamo in serbatoio domanda sì sì se siamo in generale nella città che dobbiamo visitare sì esattamente quindi non importa quanti litri x abbiamo ancora nel serbatoio la risposta è zero magari un zero un pochino meno scolvio perfetto ok a questo punto a questo punto valorizzata in questo modo come sarà la funzione di cui vogliamo trovare il valore per risolvere il problema ammettendo che quindi questa funzione qua ci risponde alla domanda se devo visitare ancora questo numero di città e ho ancora questo numero di litri di benzina nel serbatoio quanto è il minimo che devo pagare? abbiamo trovato il caso base che ci dice che se dobbiamo visitare ancora una città allora e non importa quanti litri abbiamo la risposta è zero quindi se avessimo questa funzione quello che dovremmo fare semplicemente è calcolare f di n l perché partiamo che dobbiamo ancora visitare n città e partiamo col serbatoio pieno quindi con l litri benissimo quello che vogliamo trovare adesso è una certa f di m x chiamiamola ok quindi devo visitare ancora m città e o x litri di benzina nel serbatoio vogliamo trovare una certa m di x una f di m x che appunto cerca di spaccare il problema in qualche modo di chiamare funzioni più semplici dove la nozione è di più semplice appunto con il valore di o n o l minori cioè di m o x minori ok in modo da poi riuscire a trovare la risposta per il caso che ci mancano ancora m città e abbiamo ancora x litri in un qualche modo questa f di m x potete vederla come il caso in cui vi trovate nella città tipo se m è che ne so n-1 trovate nella città 1 ok se m è n-1 con x litri cosa posso fare adesso quella è la cosa migliore che posso fare adesso e dobbiamo quindi cercare di trovare questa funzione pensateci un attimo come potremmo risolvere questo problema pensate allo spazio delle scelte ok se vi trovate in questa situazione se vi trovate in questa situazione che scelte potete fare quali sono quali è tutto il paniere di scelte che potete fare e una volta che avete trovato quel paniere di scelte le vogliamo far tutte e prenderla migliore ok allora cominciamo quindi col cercare le scelte chiediamo a Ascanio Ascanio sei in linea? si si ok quali sono le scelte che possiamo fare? cioè tu sei in macchina ok ti trovi alla città 1 per dire c'hai in saccoccia un litro di c'hai in serbatoio un litro di benzina il tuo serbatoio ne ha 4 ok cosa puoi scegliere di fare? eh posso o rifornire o andare alla città con la dopo ok ok perfetto vogliamo essere un pochino più specifici perché andare alla città dopo ok perfetto consumiamo un litro di benzina e fine e ok andiamo a quella dopo se riforniamo rifornire è un'unica scelta o in realtà ci sono più sfaccettature nel rifornire? beh posso rifornire nella stessa città e andare in quella dopo ma quando tu vai alla pompa di benzina cosa devi fare? cioè anche nella realtà cos'è la prima cosa che fai quando vai alla pompa di benzina? a parte aprire il bocchettone della benzina eh pagare pagare? esatto ma quanto paghi? dipende dipende? quindi possiamo scegliere? cos'è che possiamo scegliere? eh il prezzo però non sappiamo qual è il prezzo della città dopo no no attenzione attenzione quello che sto dicendo è se tu vai alla pompa di benzina ok ah tra l'altro faccio un'altra piccola assunzione perché sennò il problema diventa much harder diciamo che il serbatoio può contenere solo unità intere di litri ok non potete tipo avere mezzo litro ok vedete ciò se tu vai alla pompa di benzina anche nella realtà tu devi fare una scelta devi scegliere quanti soldi metterci dentro o no? sì ok quindi il paniere delle scelte qual è? possiamo eh fare tre litri un litro due litri esatto ma qualunque numero di litri va bene? eh no fino a un massimo di tre fino a un massimo nell'esempio che ho fatto di tre esattamente cioè già uno nel massimo di quattro esatto quindi di l-x perché l è la capacità del serbatoio quanto ne abbiamo è la capacità sì ok perfetto quindi ricapitolando qual è il paniere di scelte? allora prima cosa possiamo andare alla prossima città ma attenzione solamente se abbiamo almeno un litro di benzina perché se abbiamo zero litri di benzina non possiamo andare alla prossima città perché ci si ferma la macchina e ciao ok quindi quella è una scelta che possiamo fare se abbiamo almeno un litro di benzina altrimenti cosa possiamo fare? possiamo andare al benzinaio prima di andare alla prossima città e abbiamo la scelta abbiamo tante scelte quante possiamo fare una qualunque ricarica di benzina tra un litro e l-x litri al massimo l-x perché sforiamo il il budget perfetto perfetto ora abbiamo tutte le scelte a questo punto e a questo punto veramente questa è la parte più difficile del problema individuare le scelte è la parte veramente più difficile del problema perché a questo punto semplicemente cosa dobbiamo fare? dobbiamo prendere la migliore di quelle scelte le facciamo tutte ok le simuliamo tutte in un qualche senso e poi prendiamo la migliore quindi avremo che f di mx sarà cosa? se questa funzione qua ben detto f risponde alla domanda qual è il minimo che posso pagare? ok sarà il minimo tra cosa? tra chiamiamo tipo c ok quanto voglio quanti litri voglio fare di benzina ok facciamo finta che vado che anche se decido di non fare benzina vado comunque alla pompa e in caso spendo zero tanto cioè in caso non faccio cose poi vado è un tanto equivalente ok e a questo punto cosa possiamo dire? che allora al massimo abbiamo detto che potremmo fare l-x litri di carburante questo è il massimo che possiamo fare ma quant'è il minimo? perché 1 è nì non è vero che è 1 perché se tipo abbiamo già l ne possiamo fare zero in realtà se ne abbiamo già l però se ne abbiamo tipo 5 per dire possiamo anche farne zero volendo perché possiamo andare alla prossima città senza fare rifornimento abbiamo detto che passiamo dalla pompa e al massimo ci mettiamo dentro zero euro per qualunque cosa questo voglio dire però se abbiamo zero litri di come si chiama? di carburante nel serbatoio dobbiamo fare per forza almeno uno ok quindi cosa possiamo dire che il il minimo di litri che dobbiamo fare lo chiamiamo in realtà si è un po' una schifezzina ma lo chiamiamo x maggiore di zero ovvero cosa sto dicendo con questo quest'onde x maggiore di zero che se x è uguale a zero questa cosa fa zero ok facciamo finta che se questa cosa è vera allora vale uno e se questa cosa è falsa allora vale zero va bene quindi se x ok ed è sbagliato ed è sbagliato in realtà questo qua è x uguale a zero ok quindi dicevo se questa cosa è vera vale uno se questa cosa è falsa vale zero se x è uguale a zero allora il minimo che possiamo fare uno perché appunto non possiamo andare alla prossima perché non abbiamo la benzina per andare alla prossima se invece il se invece x è maggiore di zero ok quindi se abbiamo almeno un litro di benzina nel servatoio allora possiamo decidere di fare anche zero va bene quindi se noi diciamo che quali sono le possibilità di di benzina quanti litri di benzina possiamo fare beh possiamo farne un qualunque numero tra x uguale a zero che appunto vi ricordo vuol dire se x è ma allora facciamo una bella cosa invece di incasinarci con questo operatore facciamo una cosa un pochino più lineare spacchiamo i casi questo diventa m0 e questo diventa mx ok almeno così spacchiamo i casi questo è il caso in cui siamo arrivati e non abbiamo più benzina questo è il caso in cui siamo arrivati e abbiamo ancora benzina perfetto quindi a questo punto non dobbiamo più preoccuparci di x robaccia va bene così allora dicevamo se non abbiamo più benzina allora diciamo che possiamo fare qualunque qualunque possiamo comprare qualunque quantità di benzina tra 1 e l giusto perché abbiamo il serbatoio che è vuoto quindi dobbiamo almeno comprarne 1 e possiamo comprarne fino a l quindi cosa sarà la cosa migliore che possiamo fare dobbiamo provare tutti quanti i possibili valori di c e quindi quello che ci costerà sarà visitare ancora m-1 città con c-1 litri di benzina ok perché ci costa 1 andare alla prossima e poi ne abbiamo ancora m-1 più quanti litri abbiamo fatto cioè c per cosa quanto costa la benzina in quella città al litro perché abbiamo fatto c-1 litri e quindi dobbiamo moltiplicare la città quale sarà sarà la città direi a di n-m sì perché se dobbiamo ancora visitare n città siamo città 0 infatti n-n fa 0 questo è il caso in cui avevamo il serbatoio vuoto nel caso non sia vuoto allora possiamo decidere di fare una quantità di litri di comprare una quantità di litri da 0 a l-x ok e questa cosa cosa ci costerà è la stessa cosa f di m-1 virgola in questa cosa però non è attenzione non è più c-1 ma è x perché ce l'avevamo già più quelli che abbiamo fatto meno 1 ok più quelli che abbiamo comprato per a di n meno m ok ok questa è la soluzione ora aspetta un attimo perché potrebbe essere un po' grossina di digerire pensate se avete domande se non avete capito qualcosa e fatemene qualche dubbio qualcosa anche una domandina beh no c'è più che altro ma ad esempio sabato quando ci sarà il test oppure alle prove territoriali ci saranno questo tipo di problemi e questo tipo di soluzioni dove andare ma allora presupposto che sabato non allora io non ho preparato i problemi di sabato e non li ho letti apposta perché così sabato li provo a risolvere anch'io e faccio un commentario a riguardo quindi per quello non ti so dire minimamente per quanto per quanto invece riguarda i problemi delle territoriali ma anche più avanti questa è proprio la base della programmazione dinamica cioè i problemi in programmazione dinamica i problemi di programmazione dinamica che sono comunque una parte considerevole si risolvono trovando un modo di calcolare tutte le possibilità in modo smart diciamo per ora siamo ancora solamente alla fase di correttezza cioè vogliamo trovare sta funzione che ci trova la soluzione del problema ok poi adesso ci faremo l'analisi della complessità per vedere se è una complessità decente però i problemi di programmazione dinamica è proprio questa l'idea cioè trovare una funzione che ti risolve il problema ok e poi scrivere questa funzione cioè alla fine questo qua poi quando lo scrivi in C diventa questo min di C da 1 a L eccetera eccetera diventa un for fondamentalmente scrive la funzione per programmazione dinamica per programmazione dinamica memorizzarsi i risultati parziali che hai già computato quindi se calcoli un certo MX te lo ricordi che l'hai calcolato quindi se ti riserve te lo ricalcoli e trovare la soluzione in questo modo questa è fondamentalmente la programmazione dinamica ed è comunque un modus operandi che è molto utile in generale cioè questo qua è un modello di ragionamento che al fine è la ricorsione che è utile veramente in generale ok all'inizio sono assolutamente consapevole che è una batosta cioè entrare in questo mindset è veramente difficile però è un modo estremamente potente di risolvere problemi non so se ho risposto alla tua domanda no cioè sì sì ma per che altro la domanda era sapere cioè come era il test in più cioè questo qua alla fine ho capito più o meno cioè nel senso non so cosa intendi per da sapere cioè alla fine non è importante come risolvi un problema cioè l'importante è risolvere il problema non è importante il come ovviamente questo che vi sto spiegando questo approccio che vi sto spiegando non è l'unico modo di risolvere i problemi questo è un modo di risolvere i problemi è quello che secondo me è il più potente da spiegare per un approccio iniziale cioè è una di quelle cose che non richiede conoscenze progresse ed è molto potente ed è per questo che ve lo sto spiegando non è assolutamente l'unico modo ci sono tantissimi altri modi di risolvere questo problema in particolare i problemi in generale non è un da sapere perché alla fine c'è un approccio generale che appunto è trovare il caso base trovare il passo alla fine è trovare il caso base trovare il passo generale come lo trovi il passo generale pensando a quali sono tutte le possibili scelte e poi farle tutte prenderla migliore o farle tutte combinarle nel caso di prima che volessimo contarle memorizzare le soluzioni devi trovare le possibilità e anche quello è un ragionamento a sé stante devi trovare come combinarle perché in questo caso combinarle è facile perché noi stiamo cercando il minimo ok e quindi ovviamente la funzione che li combina è il minimo voglio trovare il minimo di quelle scelte non è sempre così scontato non è sempre così facile ora spero di aver risposto alla tua domanda un'altra domanda dimmi ma se nel caso se io non so quant'è il prezzo della benzina nella città dopo come posso capire qual è la soluzione migliore non lo sai e questo è il bello che non lo sai cioè il fatto è questo tu se ti trovi nella città n-m perché in questo caso è n-m ma mettiamo che siamo nella 1 ok se te ti trovi nella città 1 e non sai quali cioè ovviamente lo sai ma facciamo finta che anche tu non lo sappi e non non sai quali sono quelle dopo non ti interessa veramente perché perché non ti interessa veramente perché che questa sia una buona che fare qua la benzina sia una buona scelta o che non sia una buona scelta te stai stai facendo tutte le scelte possibili cioè io qua sono arrivato col serbatoio che aveva questa quantità di benzina ok e tu dici beh se la benzina è più conveniente nella città dopo e ho ancora un po' mi conviene andare avanti e fare la benzina là e lo fai è una delle prove che fai perché qua stiamo provando in questo caso stiamo provando a comprare 0 litri 1 litro 2 litri 3 litri eccetera eccetera fino a L-X litri che è il massimo che vuol dire serbatoio pieno e visto che facciamo tutte le scelte possibili proprio stiamo simulando qualunque scenario possibile ok tra qualunque scenario possibile per forza di cose ci sarà anche lo scenario ottimo ok quindi io praticamente non sto cercando adesso qual è la migliore sto cercando quando saprò tutto quale sarebbe stata la migliore in un certo senso sì cioè nel senso essendo che tu a priori non puoi sapere quale sarà la scelta migliore ok tu a priori non lo puoi sapere perché mi hai detto che a meno che non fai una strategia gridi che però non hai detto che funzioni a priori non lo sai qual è la scelta migliore cosa stiamo facendo qua cosa stiamo facendo le stiamo provando tutte stiamo provando tutte le scelte cioè noi fissiamo facciamo finta che siamo arrivati fino a un certo punto ok nel nostro viaggio e facciamo finta di di clonarci ok ci cloniamo in tipo in questo caso mettiamo che siamo in questo caso ci cloniamo facciamo l cloni di noi stessi e della macchina il primo clone lo mandiamo a fare un litro di benzina il secondo clone lo mandiamo a fare due litri di benzina il terzo clone lo mandiamo a fare tre litri di benzina e così avanti e poi va avanti ok bene ognuno di questi cloni quindi poi continuerà la sua strada e a sua volta poi si clonerà ma non ci interessa ok continuare la sua strada sarà arrivato in fondo quando arriva in fondo ognuno dei cloni torna indietro e ci dice guarda che io per finire il mio viaggio avendo fatto questa scelta ho pagato x l'altro dirà ho pagato y l'altro dirà ho pagato z ok bene quando tutti i cloni sono arrivati al punto di partenza sono arrivati al punto da dove erano partiti spari a tutti quanti i cloni che hanno una scelta subottima cioè che hanno pagato più del minimo ok a quel punto sei qual è il minimo perché c'hai tutti quanti i cloni uno avrà pagato 6 l'altro avrà pagato 2 l'altro avrà pagato 5 ok spari a quelli che hanno pagato 5-6 ok e mandi indietro solo quello che ha pagato il minimo cioè 2 nel caso che ho detto ok ed è quello che stiamo facendo perché qua stiamo dicendo guarda io provo tutti quanti c tra 1 ed l e per ognuno ok provo a mi chiedo qual è il cosa migliore che posso fare avendo preso questa scelta il primo punto fondamentale per capire come sta funzionando questa cosa è rendersi conto del fatto che con questo cioè con questo approccio stiamo provando tutte le scelte possibili ok e ok sì sì e sarai d'accordo con me cioè dimmelo se non sei sarai d'accordo con me che sicuramente la scelta migliore è tra tutte le scelte possibili beh sì ovviamente ok se io provo tutte le cose è sicuramente la migliore tra quelle tutte le cose e allora cosa facciamo le proviamo tutte le proviamo tutte e una volta che poi il nostro crono ci ha risposto ok eliminiamo tutti quelli subottimi e teniamo solo quello migliore che è questo operatore minimo minimo cosa fa? minimo di un insieme scarta tutti quelli che non sono il minimo e tiene solo il minimo ok? sì 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 ok e questa funzione f perché cosa stiamo facendo? stiamo dicendo guarda se io f è quella domanda f è una domanda che devi dare una risposta la domanda è se mi mancano ancora m città e ho questo numero di litri nel serbatoio quanto posso pagare al minimo? ok quindi quando sto facendo questa cosa qua sto dicendo creo i miei cloni uno che fa uno un litro di benzina un litro di benzina eccetera eccetera e per ciascuno di questi faccio la domanda faccio di nuovo la domanda ok faccio di nuovo la domanda ma con cosa? con una città in meno perché comunque l'ho spedito alla prossima città il clone e con un litro in meno di benzina perché ovviamente devo pagare quel litro di benzina per andare alla prossima città quindi quanto sarà la risposta per questo clone? sarà quanto mi dice che paga lui partendo dalla prossima città ok più quello che ho pagato per dargli sta benzina alla mia città ogni clone mi darà la risposta alla fine e di tutte queste prendo la milione ok sì 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 ho capito ok allora vi lascio ancora un po' di tempo per fare tipo non so come è il verbo delle mucche che mangiano l'erba e poi la rigurgitano la rimasticano se la ributtano indietro così comunque vi lascio un po' di tempo per digerire il tutto così se avete l'altra domanda ve ne fate perché è molto è veramente importante perché questa qua è proprio la chiave se capite questi concetti qua se capite questi concetti qua se proprio li fate i vostri se riuscite a viverci insieme passare le regionali è una barzelletta a quel punto a quel punto passare le regionali diventa veramente una barzelletta ok stavo dicendo intanto che ci pensate stimiamo la complessità computazionale di sta roba ok ci siamo detti che la complessità computazionale di una programmazione dinamica è l'insieme è il numero di stati ok quindi il numero di funzioni diverse che possiamo chiamare per quanto ci costa calcolare una singola istanza della funzione allora cominciamo con quanto ci costa calcolare una singola istanza della funzione il massimo vogliamo vedere qual è allora questo ci costa costante e vabbè questo e questo siamo d'accordo che al massimo questi se li pensiamo come for come cicli for siamo abbastanza convinti che sia questo che questo al massimo faranno l cicli for ok perché questo qua farà un for che va da 1 a l e questo farà un for che va da 0 a l-x al massimo ne fa l più 1 comunque 1 grande di l bene per ognuno di questi cicli dobbiamo fare una somma e una moltiplicazione abbiamo detto che la somma e la moltiplicazione sono operazioni che ci costano tempo costante quindi il costo di transizione di stato sarà o grande di l perché dobbiamo fare questo for e in ognuna delle interazioni del for dobbiamo fare una somma e una moltiplicazione e quindi ci costa costante e quindi costante per o grande di l o grande di l ora quant'è il numero di funzioni che verranno invocate allora ogni volta notiamo che m non può che decrementare cioè m decrementa sempre di 1 quindi sicuramente i valori che avrà m andranno andranno da 1 a n perché n è da dove siamo partiti ogni volta può solo decrementare ok e quando arriva 1 diventa il caso base e termina quindi vuol dire che il primo parametro ha una variabilità di n ci sono n diversi primi parametri possibili secondo parametro il secondo parametro invece sicuramente varia tra 0 meno di 0 non può mai andare perché non può mai capitare che abbia un serbatoio con un numero negativo di litri di benzina e però non può neanche mai sforare L perché il serbatoio non può contenere più di L litri di benzina tant'è infatti che ovviamente questo non sforerà mai L e anche questo non sforerà mai L perché non facciamo mai della benzina tale che ci oltresatura il serbatoio quindi il numero di funzioni totali quanto sarà sarà 1 grande di n per L questo è il numero di funzioni totali che vengono chiamate perché questa qua la variabilità è da 1 a n e questa la variabilità è da 0 a L quindi o grande di n per o grande di L fa o grande di n a L quindi la complessità di questo algoritmo sarà o grande di n L al quadrato è decente direi di sì direi di sì ovviamente dipende da quanto sono grandi n ed L io ad esempio ho preso questo problema da è un problema squat forces l'ho preso e aveva che n era uguale a 100 ed L era uguale a 100 ok quindi se mettiamo i valori di n ed L nella nostra complessità vediamo che questa cosa fa 100 al cubo che è uguale a 10 alla sesta che è minore di 10 all'ottava quindi per quello che dicevamo ieri ci mette meno di un secondo questa soluzione su un problema di questa dimensione ok quindi bene questa è la soluzione questo è il calcolo della complessità e quant'altro se avete domande mi raccomando fatele 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 è importante è veramente 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 importante capire avere propri questi concetti quindi vi lascio ancora parla parla io non ho capito bene come abbiamo calcolato il numero di stati ok allora il numero di stati ci sta chiedendo quante sono le possibili funzioni ok quindi f di 1 3 f di 5 6 f di 9 20 qual è il numero di possibili funzioni allora questa funzione ha due parametri ha il parametro n e il parametro l ok abbiamo detto che n sicuramente al minimo è 1 e al massimo n perché 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 beh non ci possono mancare 0 città perché siamo oltre il caso base ok e ovviamente non ci possono mancare n più 1 città perché è più grosso del problema con cui siamo partiti quindi questo parametro qua il parametro n può assumere n diversi valori fino a qua sei d'accordo? sì ok parliamo ora di l l al minimo può essere 0 perché non possiamo avere un serbatoio con un numero negativo di litri ma non può essere neanche maggiore di l perché non possiamo avere un serbatoio che ha capenza l con più di l litri tra l'altro tra l'altro non capita mai infatti se fai i calcoli qua che il secondo parametro sfori l perché qua c è al massimo l ed l-1 è minore di l qua x più l-x ok perché la capacità nuova sarà x più c e c è al massimo l-x quindi x più l-x fa l ok e l-1 ancora è minore di l quindi il numero possibile di valori qua sono quelli da 0 a l e sono l più 1 ok ma se il primo parametro può assumere n valori diversi e il secondo parametro può assumere l più 1 valori diversi beh allora vuol dire che il numero totale di parametri che possono assumere è il prodotto del numero di parametri che possono assumere ciascuno di questi ma quindi questa cosa cosa farà? farà n per l più n se non sbaglio ok che è se fai i conti con limite uno grande di nl ti è chiaro? ok sì va bene ok questo è come si calcola il numero di stati ti chiedi quanti valori diversi può assumere ogni parametro e poi fai il prodotto ok ci sono altre domande? allora lo prendo come un no lo prendo come un no 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 Grazie.